Parliamo poco dei progetti italiani ma questo non vuol dire che nell'ambito del nostro paese non ci siano degli ottimi progetti cripto che stanno anche attraversando delle fasi di crescita e di importante cambiamento nonché di sviluppo nell'ambito del loro business. Oggi torniamo a parlare di una delle realtà più giovani e più importanti in termini di crescita e di innovazione dell'ambito cripto Italia cioè young platform ragazzi vi ho già parlato forse era il 2020 addirittura quando ho introdotto la funzione di step drop guadagna camminando e poi abbiamo parlato anche di tutta quella che riguarda il loro operato in termini anche dell'exchange di trading. Hanno sviluppato diversi servizi innovativi ma da pochissimo tempo ne è arrivato uno che può essere interessantissimo per chi ad esempio è un neo investitore e vuole adoperare una strategia di posizionamento sui mercati delle cripto usando il servizio salvadanaio. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video stra interessante perché andremo a focalizzarci su questo nuovo servizio introdotto da young platform che è uno degli exchange italiani più interessanti anche in termini della loro attività di formazione che hanno utilizzando per esempio l'academy. è soprattutto uno dei servizi più semplici anche di utilizzare per i neofiti per abbracciare il mondo cripto quindi entrare nel mondo cripto. Da un po' di tempo qualche settimana hanno introdotto una funzione veramente interessante che è quella del salvadanaio. Che cos'è il salvadanaio? Il salvadanaio è una funzione che vi consente di poter avere due tipi di account differenti uno magari da utilizzare nell'ambito del vostro trading quotidiano quando andate a fare delle operazioni un po' più veloci uno invece da utilizzare per la porzione di cripto che non volete assolutamente toccare non volete intaccare non volete avere neanche il problema di doverci pensare cioè la funzione il deposito cripto in holding. Il salvadanaio va a coprire quel tipo di logica per quanto riguarda il dispositivo di Young. Se decido di accumulare un po' di bitcoin e non voglio appunto farli rientrare nella mia attività di trading allora ecco che ci viene incontro la cosiddetta funzione salvadanaio. Dove la troviamo? Se andiamo nel nostro account Young Platform in sezione portafoglio qui troviamo il cosiddetto salvadanaio. Serve appunto a mettere da parte quelle che sono le criptovalute che non vogliamo assolutamente far entrare nell'ambito trading e che vogliamo magari tenere in portafoglio per più tempo possibile quindi magari due tre o dieci anni almeno cercando di avere una view di lungo periodo. Come un classico salvadanaio c'è anche la cosiddetta funzione di poter mettere da parte un po' di euro tramutandoli in criptovalute quindi acquistando delle criptovalute e metterle da parte con un timing ben determinato applicando magari la classica strategia investing dollar cost average una DCA si chiama così in terminologia inglese. Questo ci consente di avere dei vantaggi in termini di timing di ingresso. Per esempio quando andiamo ad acquistare delle criptovalute che magari hanno già iniziato un trend estremamente crescente quindi sono sui massimi storici in questo momento ad esempio BTC è assolutamente intorno ai massimi storici registrati. Ha fatto da poco il suo nuovo ATH. Se dovessimo andare a acquistare adesso tutto in un colpo quelle che sono delle criptovalute potremmo incorrere in un timing sbagliato cioè acquistare quando il mercato è sui massimi. Come sempre io non do consigli finanziari questo lo sapete ragazzi ma queste sono soltanto delle mie esperienze e quello che riguarda la mia formazione quindi non vi parlo per darvi consigli finanziari. Utilizzando la dollar cost average, questa forma di strategia di investimento noi possiamo andare ad acquistare delle cripto mediando il timing e quindi utilizzando la cosiddetta funzione del salvadanaio di Young possiamo utilizzare questo tipo di strategia. Vi faccio vedere proprio come funziona allora dovessi fare un salvadanaio su bitcoin posso fare un acquisto ricorrente che è quello che vi ho appena detto oppure anche un semplice trasferimento perché posso trasferire anche le mie criptovalute quelle che ho in portafoglio direttamente sul salvadanaio per tutelarmi anche dal fatto di non dover magari andare poi a fare delle vendite di trading oppure incorrere nella questione trading. Quindi divido un po' quelli che sono i due approcci io lo utilizzavo sempre questa cosa qui quando ad esempio nei miei conti italiani classici andavo a pagare le bollette su un account e sull'altro invece facevo solo investimenti di lungo periodo. In questo caso andate a spostare nel salvadanaio tutte quelle che sono le vostre cripto che non volete toccare nel corso dei prossimi anni oppure andate a utilizzare la funzione del salvadanaio per impostare degli acquisti ricorrenti sulle vostre criptovalute quelle che volete detenere in portafoglio ad esempio per più più e più tempo. Allora l'acquisto ricorrente si può fare attraverso un acquisto di natura settimanale oppure due volte al mese oppure il classico acquisto mensile. Io impostando questo tipo di acquisto ricorrente il sistema in automatico andrà a comprarmi quelle che sono le criptovalute che io ho scelto e lo farà in base al time che io ho indicato in questa funzione. Si arricchisce quindi il servizio di Young quello dedicato ai neofiti con questo tipo di servizio servizio che può essere anche utilizzato per esempio da app mobile cosa estremamente importante perché essendo questo tipo di servizio di Young dedicato anche a utenti che sono neofiti o si stanno avvicinando da poco al mercato delle criptovalute aveva una grande importanza il fatto che fosse estremamente semplice estremamente facile da utilizzare e ovviamente impostabile attraverso il nostro iPhone o smartphone che sia. In questo caso tutte queste funzioni che io vi ho fatto già vedere potete utilizzarle in maniera molto semplice e impostarle dal vostro smartphone. Per chi di voi volesse provare il servizio di Young vi lascio il link in descrizione con un bonus che può arrivare fino a 25 euro. Utilizzando questo link come avviene questo bonus? Come vi danno questo bonus? Andiamolo a specificare. Allora gli primi 10 euro ve li danno quando fate il KQC quindi vi registrate con tutti la documentazione e depositate i primi 50 euro sul vostro account. Poi gli altri 15 euro quando andate a invitare i vostri amici. Questo è il modo in cui Young vi premia perché state comunque partecipando al loro progetto. È possibile intanto creare dei salvadanaio con la strategia dell'acquisto ricorrente su tutte le criptovalute ma in questo momento soltanto BTC ed ETH. Probabilmente aggiungeranno le altre cripto che hanno nel loro exchange tra brevissimo quindi tra poco. L'importo minimo è veramente basso ragazzi quindi si parla di 25 euro ovviamente dedicato anche a chi vuole andare a mettersi da parte del capitale perché magari ha le cosiddette mani bucate. Allora questi tipi di servizi hanno più la funzione di insegnarvi quello che significa risparmiare, mettere qualcosa da parte ogni mese e capire poi il significato di questa cosa qui. Quanto può diventare importante una cosa del genere per il vostro futuro nel lungo periodo, quanto potete mettere risparmio da parte per il prosieguo della vostra creazione, del vostro super portafoglio di risparmio. È interessante un servizio del genere più che da un punto di vista di ottica di guadagno spot, quindi fare la cosiddetta speculazione perché ovviamente non ha quel tipo di obiettivo. Ha più l'obiettivo di farvi risparmiare capitale e se avete le mani bucate ad esempio e non riuscite a farlo vi dà anche la possibilità di farlo utilizzando la carta di credito o addirittura Apple Pay perché si può creare un pagamento ricorrente, cioè un acquisto ricorrente di criptovalute attraverso il vostro Apple Pay o la vostra carta. Se fate questa cota in automatico ogni mese vi vengono scalate le somme, acquistate le cripto che decidete, ad esempio in questo caso Bitcoin facciamo l'ipotesi o Ethereum e vengono depositate sul salvatanaio di Young Platform. Qual è la questione e quali sono i pro e i contro? Allora ci sono due tipi di modi di attivare un acquisto ricorrente nel salvatanaio, uno utilizzando la carta di credito, l'altra è utilizzando il vostro deposito sul conto di Young. Vi faccio vedere questa cosa. Allora se io vado a utilizzare il deposito direttamente la funzione di salvatanaio andrà a prelevare gli euro dal mio deposito, comprerà le cripto e le metterà nel mio salvatanaio. Se invece vado a utilizzare la funzione carta io avrò un addebito sulla mia carta o sul mio Apple Pay e questo addebito mi comprerà le cripto e sarà depositato sul mio salvatanaio. La differenza, ed è una differenza importante da valutare secondo me, più che un dato negativo, diciamo che non è proprio una questione negativa, è più una questione da tenere sotto controllo, è proprio quella relativa alle fee da pagare se utilizzate questo tipo di servizio. Le fee sono molto importanti soprattutto perché nel lungo periodo poi assumono un grande, hanno un ruolo veramente rilevante, quindi assumono dei connotati importanti da tenere sotto controllo. Le fee per quanto riguarda l'acquisto ricorrente utilizzando la carta di credito sono, ve le leggo direttamente, eccole qui, sono delle 2,2%, che uno 0,25 è praticamente una commissioncina fissa piccolissima, questo 2,2% si applica all'acquisto ricorrente con carta di credito e poi a questo va aggiunto la fee dell'acquisto, questa è la fee dell'acquisto delle criptovalute che normalmente si va a pagare su Young per l'acquisto di cripto direttamente dalla loro applicazione, però in questo caso c'è una fee aggiunta del 2,20% perché stiamo utilizzando la carta di credito. Mentre se l'acquisto ricorrente viene impostato direttamente dal nostro portafoglio in euro, noi andiamo a pagare solo le commissioni relative alla 2,50%, cioè quello relativo all'acquisto delle criptovalute e non andiamo ad avere le fee applicate per l'acquisto con carta di credito. Questa è la vera, vera, vera differenza che in effetti può essere tenuta sotto stretta osservazione perché a questo punto possiamo anche indicare quelle che sono forse i vantaggi dell'acquisto con la carta di credito e dell'utilizzo del sabatenario con la carta di credito per chi magari vuole mettersi qualcosa da parte non riesce a farlo, quindi non ha la cosiddetta capacità di risparmio, vuole addestrarsi, impadronirsi di questa capacità di risparmiare il proprio capitale e metterlo da parte. Allora in quel caso c'è proprio l'attebito sulla carta di credito bloccato, ufficiale, impossibile da togliere, impossibile però ovviamente lo potete annullare quando volete e quindi avete risolto questo 2,20 che andate a pagare di fee, il costo corretto perché non riuscite a mettere da parte capitale da soli, quindi ve lo fa una macchina, un bot. Mentre se siete dei risparmiatori già provetti, già novelli, allora vi conviene sicuramente andare a depositare degli euro sul vostro conto di Young ed impostare un acquisto ricorrente utilizzando l'account diretto, quindi avrete in questo caso il vantaggio di avere la strategia dell'acquisto ricorrente che vi va a mediare il time di ingresso senza farvi entrare magari su prezzi che possono essere eccessivamente alti. Sappiamo già quali sono i vantaggi della mediazione del prezzo, ci sono pro e contro, ovviamente non è una strategia sempre efficiente, è una strategia efficiente se non avete una grande formazione nell'ambito trading e fate sicuramente meglio ad applicare la strategia di CA e dell'acquisto ricorrente ogni tot mese per esempio rispetto ad acquisti spot se non avete formazione, mentre nel caso di formazione iperattiva chiaramente è sempre più vantaggioso fare un acquisto di trading, però nel momento in cui state andando a impostare questo tipo di logica ve la dimenticate, quindi depositate gli euro sul vostro account, attivate il sabadanaio con l'acquisto ricorrente ad esempio mensile, secondo me mensile è la soluzione migliore per questo tipo di strategia, per questo tipo di logiche di investimento, andate a premere un bottone e ve la dimenticate per tot anni. Dovete solo avere l'accortezza di ricaricare il cot quando ovviamente gli euro saranno finiti sull'account, però in questo caso andate anche a risparmiare quelle che sono queste commissioni della carta e se non avete il problema di avere le cosiddette mani bugate ma riuscite ad essere dei risparmiatori provetti allora questa è sicuramente la soluzione più economica. Possiamo mettere una pezza però alla questione legata alle fee utilizzando questa politica che è a Young che se possediamo ovviamente i loro token, il token Young, possiamo acquisire un livello di partecipazione che va dallo starter al holder e questo ci dà diritto ad avere uno sconto che parte dal 5% fino al 50% addirittura. Allora questa cosa può essere estremamente utile se volete utilizzare l'acquisto ricorrente, per esempio il sabanaio, allora a quel punto è molto utile andare anche a impostarsi uno sconto sulle fee, magari cercando di avere il numero di Young più utile per quello che è la vostra strategia, per quello che è il vostro modo di operare. Poi tra le altre cose il livello holder si ottiene con 5000 Young che però non hanno un prezzo molto elevato, quindi 0,24 centesimi di euro. Questo in linea di massima significa che con circa 1200 euro attualmente si ha diritto ad avere il 50% di sconto delle fee. Ovviamente possedendoli come quantità, questo è uno standard che fanno molti exchange e nel settore cripto anche molti servizi della Sefai, quindi questa è un'opportunità che può essere utilizzata assolutamente per ricevere uno sconto sulle fee e mediare la questione delle fee pagate per l'acquisto delle cripto e l'utilizzo dell'acquisto ricorrente del servizio salvadanaio. Infine è anche possibile modificare questo acquisto ricorrente nonché ritrasferire tutte le cripto che sono acquistate in questo modo e trasferite sul vostro salvadanaio sul conto principale per venderle e fare quello che vi pare un po'. E questo è sempre fattibile senza costi aggiunti al momento, non c'è questo tipo di problema. E poi è anche possibile modificare l'automazione, per esempio potete passare dall'acquisto ricorrente a 28 giorni a quello settimanale o a quello bisettimanale con grande tranquillità. Questi servizi secondo me sono veramente buoni per chi è neofita, vuole abbracciare il mondo delle cripto, vuole iniziare a masticare l'ambito criptovalute e bitcoin ed è facilissimo da utilizzare con il vostro smartphone. Quindi complimenti a Young per un nuovo passetto avanti, si avvicina sempre di più a quello che poi è il loro obiettivo, quindi essere un grande exchange importante anche in Italia con una doppia funzionalità, non soltanto quella del classico trading, quindi della super piattaforma con gli indicatori grafici che spesso può essere ritenuta estremamente poco user friendly, per esempio per i neofiti, ma doppia funzionalità che hanno Young, quindi questa indicata per i neofiti e poi quella pro ovviamente che hanno con il loro exchange Young Pro. Va bene ragazzi, se avete già utilizzato questo tipo di funzione, fatemi sapere un po' come state trovando, quali sono i pro e i contro come sempre nei messaggi perché andiamo poi a spulciare, andare a fondo su questi tipi di servizi per vedere se funzionano bene, come si ci trovano, come va, come non va e tutto quanto il resto. Va bene per oggi è tutto ragazzi, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!